One Taste era una start-up in rapido sviluppo che si occupava di salute, benessere e sessualità. È stata avviata da Nicole Didon. Ho pensato molto a Nicole e la considero una imprenditrice molto scaltra. Aveva ben chiara la strategia e sembrava conoscere la psicologia dei suoi potenziali clienti. Riteneva fondamentale che ai vertici dell'organizzazione ci fosse una donna. Scelta saggia, visti gli ambiziosi obiettivi prefissati. Grazie a tutti.